Ciao, mi chiamo Denis Deva, lavoro da 15 anni circa in questa azienda, arrivo dal mondo della flessografia e mi occupo principalmente negli ultimi anni di accoppiamento. Mi trovo molto bene grazie alla dimensione compatta della macchina, ha un corridoio che mi facilita il lavoro, ottima accessibilità per l'ispezione e la manutenzione giornaliera. A differenza delle altre macchine ti permette di passare da un lavoro all'altro con facilità. Il cuore della macchina è proprio la sua facilità e la tua semplicità di utilizzo. Grazie a tutti.